Alla fine di dicembre dello scorso anno, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha finalmente approvato la risoluzione Intensifying Global Efforts for the Elimination of Female Genital Mutilations, per mettere al bando le mutilazioni genitali femminili. Gli Stati membri sono esortati ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere le donne e le ragazze da questo abuso irreparabile e irreversibile, così recita la risoluzione, e a mettere fine all'impunità di cui ha, sino a poco tempo fa, goduto. Con la risoluzione si è posto quindi fine ad una grande ipocrisia. La violenza contro le donne interpretata come frutto delle cosiddette differenze culturali. Solo la parola delle stesse donne è riuscita a sollecitare l'attenzione delle istituzioni internazionali, mettendo in luce la necessità di agire a livello mondiale, sia dentro le istituzioni sia fuori dalle istituzioni, al fine di individuare e definire strategie che meglio consentissero di rispondere a una vera emergenza di carattere globale. Grazie. Grazie.